Iniziato nel Senato l'iter del decreto sulla manovra, spunta una nuova ipotesi, uno scudo bis per far rientrare altri capitali dall'estero. Allo studio anche interventi su IVA, TFR e Famiglia. Polemiche sul prelievo doppio per i calciatori proposto da Calderoli. Bossi in cadore difende Tramonti e si scusa con Brunetta. I mercati non apprezzano la tassazione delle transazioni finanziarie proposta da Merkel e Sarkozy nel vertice anticrisi. Anche stamani le borse asiatiche hanno il segno meno, mentre ieri quasi tutte le piazze hanno chiuso in negativo. Milano faceva eccezione con un più 27%. Dal vertice franco-tedesco però arriva un altro diktat a Bruxelles per salvare l'euro. I fondi della UE solo ai paesi che riducono il deficit. Arrestato l'imprenditore albanese di 35 anni che alla guida della sua auto ha travolto e ucciso quattro giovani francesi diretti in Slovenia. L'uomo che ha provocato l'incidente sulla A26 Voltrisempione dovrà rispondere di omicidio volontario plurimo aggravato per aver guidato ubriaco e contromano. Centinaia di migliaia di ragazzi aspettano l'arrivo del Papa oggi a Madrid per la giornata mondiale della gioventù. Ieri sera la manifestazione degli indignatos contro i costi della visita di Benedetto XVI. Poi la carica della polizia per farli allontanare. Otto dimostranti fermati. 7.32, come sempre puntuali, una buona giornata da tutta la redazione del telegiornale. Allora, ha fatto sicuramente un po' scalpore vedere gli 11 senatori, davvero solo 11 senatori, ieri pomeriggio in aula ad accogliere l'arrivo del decreto della manovra finanziaria. Era una questione solo formale, lo si era detto, però evidentemente in questo momento forse avremmo gradito vedere un'aula un po' più piena. Comunque, l'iter del decreto è partito, il 23 comincerà appunto la discussione nelle commissioni, ma quello che è importante sottolineare è che chissà come ci si arriverà a quella discussione del 23, perché ogni giorno ci sono nuove proposte, ci sono novità. L'ultima sulla quale si sta discutendo in queste ore è una sorta di nuovo scudo fiscale. Tutto questo perché ci sono proposte che arrivano soprattutto dall'interno della maggioranza, ma anche da parte della Lega. E sulla Lega c'è da sottolineare che ieri c'era stata un po' di maretta, sembrava che Bossi avesse addirittura annullato il suo comizio in cadore per paura di contestazioni. Ha parlato, sì, Bossi, in tarda serata, ma solo con i giornalisti. Allora adesso in ordine vi facciamo sentire che cosa è successo con Mila Cataldo e Lorenzo Morelli. È iniziato ieri in Senato il percorso parlamentare della manovra da 45,5 miliardi di euro varata dal governo, in un'aula semivuota. Un atto formale, dal 23 agosto le commissioni bilancio e affari costituzionali cominceranno a discuterne. Il governo apre al confronto, il testo si può migliorare, naturalmente a saldi invariati, a patto quindi che gli effetti della manovra sui conti pubblici siano gli stessi. Tra le tante ipotesi che si rincorrono all'interno della maggioranza si fa strada quella di un nuovo scudo fiscale per far rientrare i capitali rimasti all'estero, anche sulla scia della Tobin Tax Europea, che potrebbe rendere più difficile l'anonimato agli evasori. Stavolta però lo scudo bis prevederebbe una penale superiore a quella del 5% applicata nel condono precedente. L'ipotesi di un nuovo condono è emersa perché la proposta di tassare i capitali già scudati, avanzata da PD e IDV, potrebbe essere impraticabile sotto il profilo costituzionale e pratico. L'iter del decreto anticrisi però si preannuncia poco tranquillo. Pesano all'interno della maggioranza le richieste dei frondisti del PDL e i malumori leghisti, le istanze degli amministratori locali ma anche le controproposte delle opposizioni. Berlusconi sarebbe pronto a rimodulare il contributo di solidarietà per i redditi sopra i 90.000 euro, fortemente avversato dai dissidenti del PDL e anche dall'Udc. Il Premier sarebbe disponibile all'inserimento del quoziente familiare, cioè a rimodulare la tassa in base al numero dei figli a carico. In discussione anche l'idea di mettere in busta paga una parte del TFR, un modo per aggiungere nelle tasche dei lavoratori quasi una mensilità ma a scapito della liquidazione o dei fondi pensione. Allo studio anche l'innalzamento di un punto dell'IVA, misura di sicuro gettito, ma dall'effetto depressivo sui consumi avversata sia da Tremonti sia dalla Lega. Nel carroccio serpeggiano malumori, ieri è stato annullato il consueto incontro con Umberto Bossi a Calalzo di Cadore. Troppi mal di pancia tra le camice verdi e molte le proteste degli amministratori locali per i tagli preannunciati. Trovare la quadra sarà difficile, ma un primo passo potrebbe arrivare oggi, quando Bossi e Calderoli festeggeranno in Cadore il compleanno del ministro dell'economia Tremonti. Bossi annulla il comizio in Cadore, poi ci ripensa e parla. Non dal palco, ma direttamente con i giornalisti al termine di una cena privata con il ministro delle Finanze. Diversi temi affrontati da Bossi, dal rapporto con Tremonti, alle modifiche alla manovra, fino alle scuse telefoniche al ministro Brunetta. Tremonti, ha detto il senatur, si sente sicuro quando ci siamo noi, non si sente abbandonato in mezzo ai lupi. E come augurio di compleanno al ministro, che oggi compie 64 anni, Bossi spera riesca a riposarsi perché bisogna ritornare in Parlamento e riprendere in mano la manovra. Poi il leader del Carroccio ha affrontato il tema della crisi e le prossime mosse del governo. Sono ottimista, ha detto, perché vedo che alla fine troviamo sempre la via possibile che ci fa andare avanti e fa sapere di aver chiamato Berlusconi. Stiamo facendo delle cose per tenere in piedi il paese, ha aggiunto. Il punto debole della manovra sono gli enti locali. Umberto Bossi affronta quindi le possibili modifiche alle misure correttive da 45,5 miliardi che il governo ha predisposto su richiesta dell'Europa. Dopo aver salvato le pensioni, ha aggiunto, si può trovare una via più completa per gli enti locali. Sull'ipotesi di un aumento dell'IVA ha invece confermato il suo scetticismo. Infine, dopo averlo definito nano di Venezia, al comizio a Ponte di Legno, Bossi ha telefonato al suo collega ministro Renato Brunetta per scusarsi. Io stimo Brunetta, a volte le parole scappano, la politica in certi momenti si scalda. Le stesse incertezze, le stesse divisioni che ritroviamo nella politica italiana si ritrovano in qualche modo anche a livello europeo. Non è la dimostrazione e la reazione che stanno avendo i mercati al vertice fra Angela Merkel, il cancellere tedesco, e Nicolas Sarkozy, il presidente francese, solo martedì. Per esempio, l'idea degli eurobond pare che in realtà fosse molto attesa, soprattutto da alcuni analisti finanziari, siccome non è arrivata, ecco la bocciatura. Così come si discute molto della cosiddetta tassazione sulle transazioni finanziarie, perché evidentemente o la applicano tutti, e quando si dice tutti si intende tutti i paesi del G20, oppure per chi la applica potrebbero essere dolori. Allora, i mercati non stanno andando bellissimo, la borsa di Tokyo sta andando male, perde un punto percentuale, Filippo Barone ci fa il punto della situazione. Obama non ha fatto il miracolo. L'iniezione di fiducia data dal presidente americano con il piano per il rilancio di infrastrutture e occupazione ha dovuto fare i conti con il meno incoraggiante incontro fra la cancelliera Merkel e il presidente francese Sarkozy, che ha partorito altre regole e altre tasse. In un mondo globalizzato, l'euforia e angoscia volano da Parigi a New York alla velocità della luce. Così l'indice de Jones, che aveva inaugurato una giornata di speranza, è ripiegato trascinato dal pessimismo europeo, chiudendo la fine alla pari, a un più 0,03%. Dicevamo che le borse europee hanno archiviato un'altra giornata all'insegna della preoccupazione. Questo è il listino a fine giornata. Londra ha chiuso a meno 0,49, Francoforte a meno 0,77, Parigi a più 0,73, Madrid a più 0,62 e Lisbona a più 0,84. Solo Milano, la migliore, può vantare un più 1,27%, ma Piazza Affari aveva già pagato il suo conto, scontando gli effetti della manovra, in particolare la nuova tassazione sui produttori e distributori di energia. Il vertice franco tedesco ha bocciato gli eurobond e partorito l'idea di introdurre la Tobin Tax, una tassa sulle transazioni finanziarie dell'eurozona. La sola ipotesi si è abbattuta sulle banche più internazionalizzate con una raffica di vendite. In Italia a farne le spese è stata Unicredit che ha lasciato sul campo l'1,62%. Ci sono delle novità per quanto riguarda l'uomo, l'imprenditore albanese che sabato contro mano sull'autostrada ha ucciso quattro giovani francesi. È stato arrestato con l'accusa di omicidio volontario, plurimo aggravato, ma la cosa ancora più interessante, se così possiamo dire, è che secondo il pubblico ministero stava guidando apposta contro mano in autostrada in qualche modo per una sorta di prova di coraggio. Tiziana Stelle. Con l'accusa di omicidio volontario è stato arrestato Ilir Bedi, l'imprenditore 35enne albanese che sabato scorso a bordo del suo SUV ha travolto ed ucciso quattro ragazzi francesi sull'A26 Voltrisempione. L'uomo guidava contro mano, ubriaco e a forte velocità quando ha centrato l'Opel Astra su cui viaggiavano i cinque turisti diretti in Slovenia. Solo uno di loro è sopravvissuto allo spaventoso frontale e Ilir Bedi e la ragazza che era con lui sono rimasti completamente illesi. Inizialmente l'imprenditore accusato di omicidio colposo era stato lasciato a piede libero suscitando l'indignazione dei parenti delle giovani vittime. A Ferragosto anche i ministri della giustizia e dell'interno intervengono sulla vicenda promettendo l'introduzione del reato di omicidio stradale per chi guida sotto l'effetto di droga o in stato di ebbrezza. Oggi la svolta dell'arresto dell'uomo determinata per gli inquirenti dall'evoluzione del quadro probatorio. Prima del tragico impatto almeno 13 automobilisti erano riusciti solo per un soffio a schivare il bolide. Tutti hanno testimoniato di aver lampeggiato e suonato il clacson per avvertire il conducente che viaggiava contro mano. Inoltre, secondo il GIP il grado di ubriachezza non era tale da compromettere le capacità intellettive. Piuttosto, scrive il giudice, Bedi era cosciente di guidare un vero bisonte della strada che in caso di incidente avrebbe causato pericolo più per altri che non per lui che era a bordo del SUV. Anche la precedente condanna per guida in stato di ebbrezza e l'aggressione ad un altro automobilista hanno pesato nella decisione dell'arresto di un soggetto descritto come irascibile e violento. Trasferiamoci in Siria adesso per giorni la città portuale di Latakia è stata bombardata quando l'ONU si è fatta sentire ha chiamato Assad il presidente siriano lui ha risposto le operazioni militari sono finite sì, intanto però restano almeno 42 cadaveri sul campo. Carla Rumor Stop alla repressione e lo stesso presidente Assad a comunicarlo direttamente al segretario generale dell'ONU Ban Ki-moon con una telefonata. Le operazioni dell'esercito siriano contro i manifestanti cesseranno bassa anche con gli arresti di massa. L'annuncio del presidente arriva poche ore dopo la notizia che l'alto commissariato dell'ONU per i diritti umani si apprestava a chiedere alla Corte Penale Internazionale l'apertura di un'inchiesta contro la Siria per la grave violazione dei diritti umani che giornalmente avviene nel paese. Sembra che anche Stati Uniti ed Unione Europea stessero per chiedere al presidente Assad di farsi da parte pena nuove sanzioni. Se si tratti davvero di una svolta lo vedremo nelle prossime ore. Quello che è certo è che nella giornata di ieri ha visto cadere altre 16 persone ad Oms un'altra città simbolo della rivolta dove la forza del regime si era spostata dopo aver annunciato il ritiro dalle città di Dair Azor e Latakia dove almeno 700 agenti avevano condotto arresti casa per casa ammassando centinaia di civili nello stadio della città. Con l'obiettivo di dare un segnale di ritorno alla normalità il ministero dell'istruzione siriano ha annunciato che si tornerà sui banchi di scuola il 18 settembre prossimo ma gli attivisti ricordano che in molte località gli edifici scolastici sono ancora usati come carceri temporane dove sono ammassati migliaia di civili arrestati in cinque mesi di repressione. Arrivano pessime notizie dal mare del nord al largo della Scozia c'è una pietraforma pietrolifera che sta perdendo greggio almeno 200 le tonnellate di petrolio che sono appunto finite nel mare del nord a causa di una perdita anzi in realtà le perdite sono due una è stata arginata ma c'è una seconda tubatura che sta perdendo e si trova in un punto del fondale dove dice la compagnia petrolifera c'è molta vegetazione dunque difficile intervenire che significa per l'appunto ancora greggio in mare andiamo in Spagna adesso a mezzogiorno è atteso l'arrivo di Papa Benedetto XVI resterà a Madrid per quattro giorni per la giornata mondiale della gioventù ieri sera c'è stata però una manifestazione di spagnoli contrari in qualche modo alla visita del Papa è finita con qualche scaramuccia otto arresti e undici persone ferite Daniela Grandi lo slogan della marcia era zero delle mie tasse al Papa agli indignados spagnoli non vanno giù quei 50 milioni di euro spesi per organizzare la visita di Benedetto XVI che arriva oggi a Madrid per la giornata mondiale della gioventù la marcia ha quindi raggiunto Puerta del Sol dove ci sono stati momenti di tensione tra l'indignados e i pellegrini fino all'intervento della polizia che ha caricato due volte i manifestanti gli organizzatori della giornata della gioventù avevano spiegato che gran parte delle spese saranno finanziate con il biglietto di iscrizione dei Papa Boys e dal ritorno economico dell'evento ma per gli indignados resta scandaloso il contributo che il governo ha stanziato negli scontri sei persone sono state arrestate e due agenti sono rimasti feriti nella capitale spagnola sono affluiti oltre 500.000 giovani arrivati da giorni per la festa dell'orgoglio cattolico la Spagna di Zapatero leader ormai al tramonto è stata per il Vaticano la punta estrema del laicismo radicale soprattutto con la sua politica di apertura alle unioni omosessuali il Papa oltre agli incontri con i Papa Boys celebrerà messa domenica mattina nel frattempo nei giardini del Buen Retiro ci sono già 200 confessionali ribattezzati festa del perdono dove 2000 sacerdoti tra cui lo stesso Papa confesseranno in sette lingue i ragazzi c'è una vicenda di cui non vi abbiamo parlato in apertura di telegiornale anche se centrava con le polemiche sulla manovra perché in qualche modo riguarda anche lo sport in particolare i calciatori e allora io do la parola e il buongiorno a Ugo Francicanava e lascio a lui l'impegno buongiorno Flavia buongiorno a tutti Flavia tu ovviamente paghi le tasse mi pare chiaro le pago ovviamente come ogni dipendente fino all'ultima fino all'ultima cifra ma in tempo di crisi chiaramente chiunque cerca di evitare di pagare le tasse ovviamente con sistemi che siano all'interno dei limiti della legge ci provano anche i calciatori e questo provoca una sollevazione da parte non soltanto dei dirigenti ma come appunto ci spiegava Flavia Fratello anche dello stesso governo ed ecco allora lo scontro frontale tra calciatori e ministro Calderoli vediamo un po' è scontro tra lasso calciatori ed il ministro Roberto Calderoli sul mondo del pallone cade la tegola della supertassa riservata alle classi medio-alte ed i campioni si ribellano il contributo di solidarietà per chi guadagna più di 90 mila euro mette le mani nel portafoglio dei giocatori che avendo un contratto di lavoro subordinato non possono sfuggire alla manovra finanziaria salva Italia ma non tutti la pensano allo stesso modo chi di loro ha infatti un contratto sullo stipendio al netto sostiene che i complessivi 50 milioni a carico della serie A debbano essere versati esclusivamente dai club il richiamo al buonsenso la tassa pagatela voi rivolta ai calciatori dall'amministratore delegato del Milan Adriano Galliani non sembra avere effetto così come l'invito ad un gesto di responsabilità partito da Rocco Crimi sotto segretario alla presidenza con delega allo sport e allora nella diatriba entra a piedi uniti il ministro della semplificazione Roberto Calderoli se lo pagano tutti gli altri ancora di più devono pagarlo loro e se minacciano lo sciopero visto che a livello dei politici abbiamo raddoppiato quel prelievo raddoppiato lo apprecheremo anche ai calciatori immediate le reazioni stupidaggini tagliacorto Leo Grosso il vicepresidente del sindacato calciatori rinvia al mittente le accuse sui presunti vizi della casta già sul piede di guerra per il rinnovo del contratto collettivo specificando che bisogna analizzare il tipo di accordo di ogni singolo giocatore insomma è muro contro muro ma tutto il mondo è paese nella Liga Spagnola sono sempre a rischio le prime due giornate di campionato venerdì nuovo incontro per evitare lo stop deciso da Messi Cristiano Ronaldo e compagni come risposta al mancato pagamento degli arretrati Liga a rischio ma si è giocato invece per quanto riguarda la Supercoppa di Spagna era il ritorno si partiva dal 2 a 2 della Santiago Bernabeu vediamo come è andata vediamo l'ultimo dispiacere di Guardiola per Mourinho e ancora Barcellona piglia tutto i catalani alzano al cielo la Supercoppa di Spagna Real Madrid battuto 3 a 2 al Camp Nou gol e spettacolo non sono mancati proprio come nella gara di andata nonostante il buon avvio del Real al 14esimo il Barcellona passa in vantaggio splendido assist di Messi per Iniesta che solo davanti a Casillas con un tocco sotto scavalca il portiere del Real la formazione di Mourinho reagisce subito ed in 6 minuti trova il pareggio con Cristiano Ronaldo pronto a deviare sotto rete un tiro di Pepe poi ancora Ronaldo al 25esimo centra un palo ma allo scadere il Barcellona ritorna in vantaggio con Messi servito di tacco da Piqué nella ripresa adenza di interventi piuttosto duri non cambia risultato fino al 36esimo quando al termine di un'azione confusa in aria Benzema piazza la girata è 2 a 2 come domenica scorsa al Santiago Bernabeu un minuto dopo fa il suo ingresso in campo nel Barcellona il neoacquisto Fabregas quando sembra che l'incontro sia ormai destinato a vivere i tempi supplementari ecco il guizzo del Barcellona e Adriano a crossare dalla destra e Messi a spedire la palla ancora alle spalle di Casillas il primo trofeo della stagione va ai catalani ma è stanchi di vincere poi finisce in rissa con Marcello espulso per un fallaccio sullo stesso Fabregas mentre Ozil e Villa si scambiano colpi proibiti nel finale Murigno viene anche pizzicato dalle telecamere mentre cerca di mettere un dito nell'occhio a Tito Villanova allenatore in seconda di Pep Guardiola giocano anche le squadre italiane per i preliminari per i playoff di Europa League sono impegnate Roma e Lazio ma intanto si sta per concludere uno dei tormentoni dell'estate quello legato ad Eto'o ci siamo vicini le parole di German Kachenko uomo mercato del lanci al termine di un'altra convulsa giornata di trattative servono solo a confermare le voci circolate nei giorni scorsi a ore forse a giorni Samuel Eto'o lascerà l'Inter per accasarsi nella Premier League russa mancano i dettagli le cifre definitive ma tutto lascia credere che si chiuderà per 29 milioni di euro nelle casse nerazzurre e 20 milioni di euro netti per tre stagioni all'attaccante camerunense si avvia così alla chiusura una di tormentoni dell'estate quello che di fatto bloccava le strategie di mercato dei nerazzurri che non dovrebbero cedere alle lusinghe del Manchester United per Snyder e intanto incassano il rinnovo di Lucio fino al 2014 in entrata questo punto è chiaro serve una punta già ma quale la rosa dei nomi non è poi così folta pare delinearsi una vera e propria corsa a tre la Vezzi Tevez Forlan il nome preferito da Massimo Moratti resta quello dell'argentino del Manchester City ma il costo del cartellino superiore ai 40 milioni di euro non pare alla portata del portafoglio interista si prova a lavorare sull'opzione del prestito con obbligo di riscatto formula poco gradita all'ex Roberto Mancini è complicata anche la strada che porta all'altro attaccante della Selezione Zechiela Vezzi De Laurentiis non intende schiodare dalla richiesta di 31 milioni di euro clausola rescissoria prevista sul contratto del Pocio se sia i citizens che il Napoli non si muoveranno dalle proprie posizioni ecco pronta però la pista che porta Diego Forlan attaccante di 32 anni dell'Atletico Madrid che anche per ragioni anagrafiche costa decisamente meno degli altri sogni di mercato nerazzurri occhio però al possibile outsider quel Rodrigo Palassio tanto caro al tecnico Gasperini che per 15 milioni potrebbe anche lasciare il Genoa in chiusura ci occupiamo di Windsurf una nuova impresa del tricampione del mondo tedesco Bern Fleszner che ha coperto le 70 miglia che separano le coste tedesche dall'isola di Silt una delle isole Frisone appunto vicino alla confine con la Danimarca Fleszner è rimasto sulla sua tavola per oltre 4 ore difficoltà sia di carattere meteo prima il vento era troppo leggero poi è diventato fin troppo teso 20 nodi problemi tecnici Fleszner in una delle cadute ha forato alla vela è comunque arrivato fino in fondo alla sua impresa mai riuscita a nessuno prima Flavia a te allora è il momento di dare subito la linea a Manuela Ferri agli ospiti di Omnibus noi invece ci vediamo come sempre domani mattina se volete intanto una buona giornata Grazie a tutti